Nel sistema internazionale delle unità di misura, l'unità di misura della temperatura non è il grado Celsius o grado Centigrado, ma il Kelvin. Non si chiama grado Kelvin, ma semplicemente Kelvin. In questa figura vediamo a confronto le due scale, la scala Celsius e la scala Kelvin, detta anche scala assoluta delle temperature. Le due scale sono identiche, con l'unica differenza che la scala Kelvin è tutta quanta traslata rispetto alla scala Centigrada. Cioè tutti i valori della scala Kelvin si ottengono sommando ai valori della scala Centigrada il valore 273. Per la precisione sarebbe 273,15. Per esempio, 0 gradi Centigradi corrispondente alla fusione del ghiaccio corrisponde a 273 Kelvin e 100 gradi Centigradi, l'epolizione dell'acqua, corrisponde a 373 Kelvin. E lo stesso per tutti gli altri valori. In particolare, meno 273 gradi Centigradi corrisponde a 0 Kelvin. La scelta di utilizzare la scala Kelvin è giustificata dal fatto che in fisica le temperature non possono mai scendere sotto a questo valore, meno 273 gradi Centigradi, cioè lo 0 assoluto, lo 0 Kelvin. Quindi la nuova scala, la scala Kelvin, parte da quel valore, 0 Kelvin, che rappresenta il minimo valore possibile e immaginabile per le temperature. Infatti è impossibile scendere al di sotto di questa temperatura in fisica. In pratica questa 0 Kelvin è la temperatura limite. Vediamo quindi questa formula che dice che le temperature espresse in Kelvin si ottengono, T maiuscolo, si ottengono dalle temperature espresse in gradi Centigradi, T minuscolo, sommando 273 Kelvin. Per esempio, se abbiamo la temperatura di 200 gradi Centigradi, T minuscolo è 200 gradi Centigradi, sommando il valore 273, otteniamo 473 Kelvin, cioè la temperatura in Kelvin. Viceversa, se noi abbiamo la temperatura in Kelvin, per esempio 473 Kelvin, e vogliamo passare ai gradi Centigradi, dobbiamo togliere 273. 473, togliamo 273, arriviamo a 200 gradi Centigradi. La temperatura assoluta è una scala naturale, infatti non è possibile raffreddare nessun corpo a 0 Kelvin o al di sotto. Per questa ragione 0 Kelvin è lo 0 assoluto. A parte questa traslazione di 273 unità, le due scale sono identiche, nel senso che le tacchette, i singoli gradi, sono precisamente uguali, cioè la variazione di un Kelvin è identica a quella di un grado Centigradi. Per esempio, se noi passiamo da 200 a 201 gradi Centigradi, l'incremento di temperatura è identico a passare da 473 a 474 Kelvin, cioè le tacchette sono distanziate nello stesso identico modo nelle due scale. Quindi il riscaldamento o il raffreddamento di un Kelvin è uguale al riscaldamento o al raffreddamento di un grado Centigradi.